Sui migranti e sulla loro accoglienza in Sardegna in furia la polemica politica che verte sulla scelta, tra l'altro, dell'ex carcere di Iglesias come sede di un CPR, un centro di permanenza per i rimpatriati. L'opposizione di centro-destra ha organizzato un sit-in, scando dure polemiche con la sinistra, mentre il presidente della regione, Francesco Pigliaro, venerdì, ha scritto al ministro degli interni, Marco Minitti. Questo al fine di verificare la possibile realizzazione in Sardegna di un CPR e contemporaneamente affrontare le altre questioni in considerazione anche del rilevante aumento del numero degli sbarchi. Questo impone che siano prontamente trattate al fine di fornire risposte rapide e adeguate per accogliere i migranti in condizioni di legalità e sicurezza, ha scritto il governatore. Ma c'è un'altra problematica segnalata da Pigliaro al ministro degli interni, quella dello sbarco diretto di migranti provenienti dall'Algeria. Un trend in continua crescita, come dimostrano i due recuperi effettuati da parte di navi in transito nel canale di Sardegna. Sui due barchini sono giunti complessivamente nell'isola 25 migranti. Stamattina sono stati recuperati 14 algerini a largo di Capo Sperone. Dopo le visite mediche, le operazioni di identificazione saranno trasferite nel centro di accoglienza di assemini. I dati comunicati da Pigliaro a Miniti parlano di 159 migranti sbarcati direttamente nel 2014, 291 nel 2015, 1106 nel 2016. Numeri che si aggiungono a quelli dei profughi arrivati nell'isola con le navi del dispositivo internazionale. Grazie. Grazie.